Questo è un bookmaker tradizionale. Funziona così. Gli scommettitori effettuano le giocate contro il banco che raccoglie le puntate. Successivamente, una volta conosciuto il risultato è il bookmaker che ripartisce la vincita in questo modo. Una parte ha gli scommettitori vincenti, mentre le giocate perse e i margini sulle quote vengono incassate dal bookmaker. Come fanno? Facile. Calcolano la reale probabilità del verificarsi di un risultato, ovvero una quota dalla quale sottraggono un margine che trattengono per loro. Risultato? Offrono allo scommettitore e quote molto basse e si assicurano profitti anche nel caso in cui i loro pronostici non fossero esatti. Le quote si riducono talmente tanto che il rischio che lo scommettitore vinca dei soldi è veramente basso. A volte il gioco non vale la candela. Con l'arrivo di internet le cose non sono cambiate molto. I bookmakers tradizionali hanno adattato il vecchio modello al mondo online. Gli scommettitori continuano a scommettere contro il bookmaker che mantiene il controllo delle giocate e delle quote. Per mettere fine a questa situazione un gruppo di persone ha avuto un'idea molto semplice ma decisamente rivoluzionaria. E se invece di scommettere contro il banco utilizzassimo internet per scommettere tra di noi? Direttamente, senza bookmaker, eliminando i margini sulle quote. Così nacque la borsa delle scommesse, in inglese betting exchange. Era l'anno 2000 e lo chiamarono Betfair, la scommessa giusta. Il betting exchange funziona come quando scommetti contro un amico. Devi avere una somma di denaro da scommettere e avere opinioni differenti. Ora abbiamo una scommessa abbinata. Betfair si occuperà di trattenere il denaro di entrambi e quando ci sarà un vincitore la somma vinta verrà assegnata direttamente. Più facile di così? Impossibile! Non giocare contro un bookmaker ha molti vantaggi. Per esempio, in Betfair sono gli scommettitori che decidono le quote e se non sei d'accordo puoi semplicemente richiederne una migliore e aspettare che qualcuno che la pensa diversamente abbini la tua scommessa. Betfair genera più di 15 milioni di scommesse al giorno da scommettitori di tutto il mondo. Ci sarà sempre qualcuno che vorrà scommettere contro di te. Alla fine gli scommettitori di Betfair hanno sempre le quote migliori perché siamo noi che decidiamo il prezzo finale. Non c'è più il banco che decide quanti soldi fare sugli scommettitori. Il betting exchange è il top, il più profittevole ed è il futuro della scommessa. Finalmente ogni scommettitore può decidere per sé e finalmente può cominciare a vincere soldi. Betfair non guadagna sulle perdite. Betfair vuole sempre che tu vinca. Perché? Perché Betfair prenderà una piccola commissione che varia dal 2% al 5% solo sulle vincite nette, cioè sul profitto. Se tu vinci, Betfair vince. Mi sembra giusto, no? In più, il modello Betfair basato su domanda e offerta genera un'incredibile liquidità nelle scommesse live con quote che cambiano ogni secondo, dal primo minuto al fischio finale di ogni evento sportivo. Betfair ama le scommesse live, rendendo l'evento sportivo sempre più emozionante. Un altro vantaggio? Immagina di voler scommettere su un pareggio ma allo stesso tempo pensi che ci sia la possibilità che una delle due squadre possa perdere. Con Betfair puoi scommettere contro il verificarsi di un risultato. Quindi scommetti contro la vittoria in casa. In questo modo vincerai sia in caso di pareggio sia in caso di sconfitta. Così avrai più possibilità di indovinare il risultato esatto. Probabilmente non avrai mai fatto questo tipo di scommessa perché fino ad ora il bookmaker lo faceva per te. Per farlo basta semplicemente entrare in un mercato e selezionare l'opzione punta e banca. Per esempio vediamo una corsa di Formula 1. Sulla destra potrai vedere le quote degli utenti che stanno offrendo scommesse contro i piloti per la vittoria della gara. Se selezioni un pilota e la gara viene vinta da un altro pilota, avrai vinto la tua scommessa. Oggi il successo di Betfair è riconosciuto in tutto il mondo, tanto che Betfair è diventata la community di scommettitori più grande al mondo. Basta immaginare che il numero delle scommesse abbinate su Betfair è 15 volte più grande delle borse di New York e Londra messe insieme. Betfair è così conveniente per gli utenti che la maggior parte dei bookmakers commette su Betfair per coprire la propria esposizione e ridurre i rischi derivanti dall'accettazione di scommesse. Elimina gli intermediari. Prendi il controllo totale e scommetti a modo tuo. Così funziona il Betting Exchange, la maniera più intelligente di scommettere. Registrati adesso su Betfair e dai più valore alle tue scommesse.